Manco fosse capo d'anno Buona O bueno bueno Questo buffo Ya Incroliabili Mi chiamavano Bo Superman Mister Fiamma non da mai retta Salve a tutti ragazzi Siamo in un altro video Di Uncharted 4 Con voi Vincent Faremo una bella partita Ah villaggio Proprio siamo al villaggio Siamo villageri Tipo quelli di Minecraft Voglio incominciare subito Dicendo che Ciao Cominciamo bene aspettate Un altro vuole essere salutato In un video Quindi oggi Saluterò Di nuovi cattivi No io meravamo Ma mi arrabbio eh Voglio non farci diventare cattivi oggi Spero tu voglia vincere Di certo non con te Quello che vuole essere salutato Commenta Bravi Visto che ti seguo da tanto E ti stimo Puoi salutarmi in un tuo video Please Ti saluto subito Faze O Faze Ti giuro Non so come Dovrebbe essere Faze Sta minchia Ah e divertiti lassù eh Non le chiappe al sicuro Vabbè qua ne sto sentendo di cose Prima ho detto un nome che Potresti commentarmi Perché Questo nome Davvero Sono curioso di sapere Cosa ti ha spinto A chiamarti così Ti giuro veramente Lo voglio sapere E' divertentissimo Guardate Guardate Ah di già Ma No ma non è possibile Vabbè Yes Imbecile che non sia Come dire che stanno già i soffocatori Non è possibile Sono contentissimo veramente Di questi commenti Mi saluti Please Insomma questo genere di commenti Veramente li sogniamo Da una vita Peccato che non c'ho bomba Oh Prendi questo Oh Questo è andato a gironzolando Vabbè L'avete voluto voi Il gattino si è bagnato Eccomi Mi sono perso qualcosa E inoltre oggi Invito Un bellissimo amico Invito Il panino Questo significa solo una cosa Che mentre giocherò Mangerò Oh Tanto per l'informazione Il panino E' con la fesa di tacchino Con un fesso di tacchino Non lo so Faccio schifo come battuto Ma vabbè Non l'ho colpito? Ma sei serio? Oh Oh La lezione è finita Merca di questo Sto girando E che stavo a dire? Non mi ricordo Tieni prendi Oh Ciao ciao Vaffan gara Oh Dammi sta posto Non è inutile dire che da quando ho preso questo nuovo joystick Sticca Sono diventato un mostro Un mostro Comunque adesso devo fare stick Ehm Ehm Ciao ciao Prendi questo Vieni 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 Forza Venite Wow Wow No Ma lo devi Scherzi Perché non esplod- Stai scherzando? Sto cosa io non ho mai capito delle mine eh Oh por- E beh giusto a me mi s'ho avvicinato io So esplose Roba da matti Ma se quello non esplode mi- Niente di personale No giuro bra- Ma il raggio d'azione di sto coso Cosa è esploso? Potreste andarvene a caccare tutti i guanti E in tutto ciò la mina non è esplosa Adesso è esploso Finalmente Ma il raggio d'azione di ste mine qua Quanto è grande Esploti Eeeh Vabbè va Vabbè va Ya subito C'è un tedesco è arrivato qui E vabbè Qua si fa notte Ah questa è scena Ma chi ti ha ruolato? E' un ucciso con ste rubine qua Ma dai è una follia Che follia Che follia Che follia Vediamo la jungle Anche se c'ho un botto di cosa da fare qui Con sto fucile Non so come cacchio farò Cioè qua ne serviranno due di partita da fare Inoltre io Volendo Potrei anche comprarmene altre due Ah ce ne ho da spendere E allora mettiamo Una Qui Una qui Prendi un po' di questo E una qui Volevo provo a vedere se non devono esplodere Eppa Cazzo Oh è esploso eh No figlio di Oh E vada A mare Oh non l'ho No e vabbè E' arrivato Matrix Si va Si va Si va Si va Si va be a Q se non è esplosso Oh colpito in testa oh vai vai olle ti troveremo hai rotto proprio hai rotto così almeno ci siamo equipaggiati per bene di tutto e la buva dai Elena no 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 ma disgraziati ma quanto siete no Elena io non ce la faccio eh ah dovete a me ma va non ci passano da sopra ma siamo le maniere forte ma va utilizzo pure io hai rotto le scatole dov'è l'altro che ha fatto quello vieni in punto non ci passi sopra 100% e buonanotte a quanti niti ah una rotta proprio che sto là di? che non ci passi sopra che non ci passi sopra oh porca miseria oh 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 buoni no che figli di per la rabbia mi mangio comunque non sto facendo come a fanapton questo amore è ammazzato a costa che prendi un po' di questo vuoi esplodere c'è vi rendete conto quanto era vicino alla alla mina? oh c'è da sta sopra ma veramente inaccettabile rotto proprio le scatole eh ah si ammazzato eh Elena dai ma non devi morire così magari ti possè oh porca maglie via io soprattutto me ne devo andare se no qua veramente non ce la faccio ah comunque mi sono scordato di dirvi che questo ho dei figli di la volete finire? no raga so due sicuramente sono due donno mi faccio saltare tutti in aria quanto è vero che mi chiamo Vincenzo si buona oh porca maglia oh mio dio meno male che è finito il round ma quanti esplosivi proprio se stavano a divertire proprio manco fosse capo danno provo a vedere se adesso non esplodite tutti quanti come state forza esplodi esplodisci veramente le mine in questo gioco secondo me sono false oh ci stavano da tempo vicino attenzione oh mio dio che bello in tutto ciò non sono morti mettiamolo capo cos'è messo qui il co ma qua ci ho mai fatto caso seriamente ti sei fatto abbattere da questo deficiente che non è altro prendili vai ci sei sopra ma mio dio a volte questo gioco è falso proprio oh ce ne è voluto per capire che stava vicini forza forza oh buono buono attena quel paese il problema sembra risolto a voi com'è andata ah meglio di così guarda quanti bei punti ne mancano tre oh ne mancano tre incredibile se utilizzo per bene queste tre mine uno spettacolo oh fuori un ah non è morto mi è voluto il cappello si calmi sto facendo un po' di spese dato che non è morto quello vai esplodi esplodisci vabbè chi sei salvato che ti devo dire sei salvati ragazzi dovresti esplodere tu invece di fare come la tua amica è venuta in esploso che non è morto vai si domani no raga io rimango estrefatto vai uno dei due deve esplodere ah ma non l'ho lanciata ah e allora ecco perchè oh tu mi stai antipatico proprio comunque se qualcuno ci passa la vicino e non esplode veramente ma arrabbio eh di brutto ma arrabbio prendili vabbè tinnatilo tu forza fangala va oh lo sta oh oh c'è proprio ader ma perché quello era proprio l'ultimo non so perchè non ha continuato a sparare ma va bene guardate che le mine esplodono anche se tu ci passi vicino accanto guardate questo raggio d'azione lo guardate ciò vuol dire che se uno sta dentro a quel raggio d'azione dovrebbe esplodere e invece mi chiamavano boh superman tatacit calarut proprio tutto qua ma vi tru che cacchio c'hai dovrei aver finito con ste mine maledette madonna sa ma ha fatto spawn da ole vie 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 ah giusto l'ultima proprio per ole maledetta te che c'è a volevi scappare No, è fortissima questa mitraglietta Non lo devo dire Niente, non prendeva Sto facendo il cagnolino quando deve dormire Ma che vai con la granata Madonna, non so passato davanti Ma che l'ho visto E' stato appiccichato al muro Ah, cavolo Frendi un po' di questo Non vedo più buffoni in giro, ottimo lavoro Detto bene, Sully, questo buffoni Cos'è? Un Power Rangers? Signore della guerra Ah, fa fuoche fiamme Lo chiamavano Mr. Fiamma non dà mai retta Se potessi stare un po' ferro Ti devo fra la foto, non vieni bene se ti muovi Sei venuto insieme No E c'è un colpo Perfetto Mettiamolo K.O. Ah sì, becca tripa Oh, ho colpito Lo sento, lo sento, lo sento E' come ho scansato questo E' come ho scansato questo Dov'è? Si è incastrato Non so perché a certe volte non fa da Oh Madonna, sto facendo canestro Oh, cos'hai scoppiato qui? Ciccio, qualcuno ti avrebbe lanciato una bomba Comunque, come al solito io direi di fare qualche sbaulamento Non dico spacchettamento perché essendoti forzieri dei bauli del tesoro Allora non ci azzecca E' un termine, secondo me, che ho inventato tutto io Flynn Perfetto Poteva uscirci qualcosa di meglio Ma vabbè Flynn Rider Vediamo Cacciatore invernale eroico Riff con completo Wow Cappello belgio Lazarevic tattico E cappello giappone Non è uscito qua chissà cosa Semplicemente per il fatto che ho trovato di meglio Vabbè, io spero che questo video vi sia piaciuto Se credi che stanno mettete un bel mi piace Commentate e iscrivetevi Da dunque più avanti Che no, 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 no Notte No, no